Guido Guidesi, l'ennesimo regalo per Roma Capitale da parte del governo, che cosa stanno facendo? Stanno facendo semplicemente al di là di tutti gli investimenti sostanziosi, investimenti che stanno facendo per il Comune di Roma per salvarli dal buco e dall'indebitamento che il Comune ha dovuto alle gestioni sceglierate delle ultime amministrazioni comunali e oggi abbiamo scoperto anche che grazie a un decreto del governo il Comune di Roma godrà di un svincolo al patto di stabilità a differenza di tutti gli altri comuni d'Italia, per cui un'ulteriore agevolazione, un ulteriore aiuto ad un comune che è in dissesto che dovrebbe solo essere commissariato. A proposito di patto di stabilità, la Lega Nord che cosa aveva chiesto in aula? Noi abbiamo chiesto di modificare le regole del patto di stabilità, di dar modo ai comuni di fare investimenti per cui di far girare l'economia anche attraverso le amministrazioni pubbliche. Ci sono i comuni sani, i comuni del Nord che amministrano, i sindaci e le amministrazioni che amministrano in maniera responsabile che hanno dei soldi in cassa che con i limiti del patto di stabilità non possono spendere. Detto questo, noi ieri abbiamo presentato una proposta attraverso un ordine del giorno, proposta che già avevamo presentato nei mesi scorsi e che continueremo a presentare, dove diciamo che perlomeno per gli investimenti in materia di sicurezza urbana non valga il vincolo del patto di stabilità, dando modo ai comuni di rispondere ad un'esigenza di sicurezza dovuta ai continui furti e alle continue aggressioni che oramai sono quotidiane in tutti i comuni. Invece il governo fa questo, provvede a liberare i delinquenti, a dare priorità agli immigrati e a dare priorità ancora una volta all'amministrazione comunale che è il principe dell'irresponsabilità amministrativa. Questa è la dimostrazione che il governo dà a tutti quei sindaci e a tutti quei comuni che invece amministrano responsabilmente.